Ciao ragazzi da PlantReviews, oggi 15 di maio e vi parlerò oggi del parrott Texas Flame. Penso che ho troppo tanti bulb in questi posti perché la maggior parte di loro stanno e penso che la prossima volta, quando la boda in questo ottimo, le prenderò in ogni gruppo in un pozzo perché è un po' di farlo vedere le plantate presentano come questo. ma parlando di PowerRoth Texas Flame, tutti hanno fatto errori, e questo è me. Parlando di PowerRoth Texas Flame, è una PowerRoth Tulip. È circa 50-60 cm tall, e se fosse eretto, avrebbe avuto 50 cm in alto. Le letture sono le letture grano e blu di tulip, come si può vedere. Ma le letture sono estremamente grandi. Iniziano con un grano molto dure, come si può vedere in questi bambini, e sviluppano con un giallo che si può vedere sulle tappi. Le letture sono inizialmente, come si può vedere, si può vedere, quando le letture si sviluppano. E diventano più e più giallo quando si sviluppano. E in fine, iniziano a vedere blusche di rosa, in additione a giallo e verde. L'effetto overall è assolutamente incredibile, si può vedere come flamboyante le colori sono. Si può vedere queste flamme di rosa e verde, su un giallo background, e il patto sull'interno è ripetato. È un'attività di tulip. In ultimi anni, non ho avuto molto successo con tulip parrots che vengono anno dopo anno. Adesso, dopo il bloccio, per un paio di anni, hanno ridurato le sceglie delle flore. Ma è una pietà, perché sono davvero alcuni dei miei tipi favoriti di tulip. Sono davvero bellissime, grandi flore, e molto showy in un giardino. Se vuoi una flore che davvero stendere, con un bel display di color e forma, sicuramente la parte rosa è quella che è consigliata per voi. Come vedete, con questo... Scusi, mi sono messo la blu bellissima. Perfetto. Come vedete, come bellissima, e come grandi le flore sono. Sono circa 10 cm in height, e, quando fuori open, circa 12 cm quando fuori open. Il colore è davvero incredibile. I hope you enjoyed the video, and I will see you next time. Come vedete. Come vedete. A presto. Bene Corativo.